Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2! Siamo su Sleeping Dogs! Perché sono tornato su Sleeping Dogs? Beh, perché ultimamente stiamo giocando tanto tantone a GTA e volevo ricordarvi che in giro ci sono anche questi giochi e... secondo me non hanno troppe cose da invidiare a GTA, perlomeno per come la vedo io, eh! La gestione di certe cose è senza ombra di dubbio più figa in questo gioco ad esempio la guida io la preferisco perché è molto più arcade molto più divertente se vogliamo correre qui certo in GTA ci sono tantissimi tipi di guida diversa però questo stile di guida mi diverte di più è una questione di gusti naturalmente, a voi potrebbe far schifo però a me non dà fastidio, anzi è un valore aggiunto per come la vedo io poi possiamo combattere in Sleeping Dogs ed è una cosa che sono quasi quasi tentato di fare però non adesso vorrei prima andare a fare il combattimento dei polli vi piace far combattere i polli? spero di no ragazzi perché è una cosa orribile ma in questo videogame lo possiamo fare senza sentirci neanche troppo in colpa scommettiamo ragazzi, scommettiamo! Ah non ho denaro sufficiente! davvero? come ho perso il mio denaro? quando è successo? ah che palle! dovremmo fare qualche missione per guadagnare denaro in realtà ci togliamo dall'addietro eeeeee là! questo gioco ha una storia bellissima ragazzi ora potrei farci anche una serie di gameplay ripercorrendo la storia non mi ricordo niente ok mi ricordo qualcosa vieni qua bellissima! le mie mani si muovono da sole sono riuscito a ricordarmi delle combo testa nel muro attacca, attacca, schifoso ah le ossa, le ossa figliolo, le ossa allora vediamo un po' se c'è qualche missione che possiamo fare per guadagnare due soldi possiamo fare un favore a qualcuno dobbiamo trovare un'icona favore sulla mappa ma prima ci servirebbe un'auto beh, a questa mi sembra abbastanza tamarra c'è un favore un favore che si chiama il nuovo giocattolo di Tang qualunque cosa sia ci interessa perché abbiamo bisogno di soldi per poter scommettere sui polli quanto la cosa sia moralmente disastrosa qui in Sleeping Dogs si guida a destra e anzi si guida a sinistra e io ho perso la mano tantissimo con questo concetto perché ho giocato a GTA ho giocato a Saints Row e oh oh guidano di merda bella vai vai, arrampicati recupera bravo merda, merda non si deve avvicinare perfetto ok scusate ragazzi è piccola piccola divagazione dobbiamo seminare i poliziotti perfetto ma perché siete così duri a morire voi altri credo di avergli fatto imboccare una strada sbagliata perlomeno è quello che spero nooo è ancora là dietro oh gliel'ho spaccata quella macchina maledetta porta il furgone rubato al punto di consegna anche qui è difficilissimo mantenere una condotta lineare qui ti dirottano da tutte le parti con queste sottomissioni continue però sono davvero contento di non aver disinstallato questo gioco per me è veramente uno dei giochi più fighi quali abbia mai giocato ah figo il punto di consegna è vicino al favore che dobbiamo fare ottimo ecchi te lo chi ho terrorizzato tutti gli uomini dell'autorimessa qui però non fa niente immagino che ci diano adesso dei soldi soldi che potremmo spendere combattendo contro l'altra gente puntando soldi o o facendo combattere i polli che non sarebbe male affatto uno due e tre gambina adesso mi sembra di ricordare molte più cose rispetto a prima sì bella eeeh chi vuoi colpire chi vuoi colpire ciccio giù no mi ha preso il bastardo vieni qua devo ripassare un po' di di mosse ma non lo farò in questo gameplay perché altrimenti divaghiamo un po' troppo e dai madonna la polizia arriva in un attimo qua non puoi rompere il culo a un cittadino che subito fortunatamente mi stanno inseguendo a piedi ma no oh via molto parkour questa cosa sono stato un cretino non so se l'ho ucciso il poliziotto spero di no che questo accrescerebbe il loro interesse verso di me ammazza sta macchina tira tanto veloce niente mi hanno preso no la voglio andare qua cazzo scendi merda via 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 no 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 mi ammazzano qua mi ammazzano altro che mi arrestano mi ammazzano perché non c'è un posto dove scappare qui vai vai via grande grande sei un grande way beh sì però devi scavalcare anche questa porca madonna quanto è violenta la morte che fai quando ti sparano mi hanno tolto giustamente un bel po' di soldi abbiamo preso una vespa è sempre una vespa non è una moto ma va bene va bene vediamo un po' mappa scorta un alleato no non mi piace questa missione qui è troppo banale cioè magari magari è figa però sono convinto che si debba semplicemente scortare qualcuno chi bara dai chi bara magari dobbiamo pestare un baro le missioni dove devo pestare qualcuno sono le mie preferite sono sempre state le mie preferite eccoci arrivati più o meno siamo in zona 60 metri eccolo qui vabbè non c'era bisogno comunque ok devo sfasciare l'auto a un tizio che a quanto pare è riuscito a vincere la gara contro questo povero ragazzo perché ha barato e a noi i bari non piacciono anche se la puglia non mi dispiace l'avete capita? no? bene questo significa che siete ragazzi a posto prima però di andare a fare questa cosa io direi di riscaldare un po' i muscoli perché dobbiamo ricordarci tante cosine belle ehi sì sì eh vabbè non riescono più a colpirmi ormai ho ripreso la mano con i tempi sì sì eh sì sì speriamo che non ci tocchi sparare tirar fuori la pistola e altre amenità del genere ma ce l'abbiamo con noi la pistola? no che non ce l'abbiamo porca vacca beh speriamo che le cose non si mettano troppo male perché non siamo assolutamente armati neanche per scherzo fortunatamente il nostro baro è qua vicino ed è a quanto pare vicino all'acqua tempo restante oh cazzo abbiamo poco tempo per trovare il baro 14 secondi beh se non sbagliamo strada dovremmo farcela prendi un ferro per gomme dal baule dell'auto da corsa credo che dovremmo semplicemente massacrare quest'auto che meraviglia è liberatorio ok si è incazzato con noi questo eh eh sì sto morendo di paura vieni qua vieni qua l'abbiamo l'abbiamo fermato? no niente proprio continuo a rompere le scatole ah un colpo è bastato pensavo di doverlo tritare di più ora mi dispiace tantissimo aver massacrato questa bell'auto perché gliela gliela ruberei tranquillamente senza il minimo problema che dite facciamo una puntatina dalla nostra ragazza che mi sembra un'ottima idea sì vabbè scusa che seratina da vaffanculo che seratina da gangster stavo dicendo ragazzi abbiamo abbiamo recuperato un sacco di cose belle abbiamo recuperato la nostra voglia di picchiare abbiamo recuperato la bellissima visuale di Hong Kong con la pioggia che è veramente impagabile e adesso andiamo a recuperare anche i rapporti con la nostra fidanzata mazza che moto gangsta che corre tantissimo ecco nonostante il gioco sia molto arcade non possiamo farle queste fesserie in GTA saremmo schizzati sulla scala senza problemi divertiamoci ad impennare perché noi siamo tamarri guardate che bei giochetti che facciamo con la moto madonna l'ho ammazzata per poco ma questa è la mia ragazza ma non me la ricordavo questa tizia amico mio sei fortunato la tua ragazza non frega dove la porti basta che ce la porti in fretta una ragazza così operativa è un sogno e quindi dobbiamo andare a manetta a lei piace che andiamo velocissimi quindi ce ne andiamo in oh oh in tangenziale si però pure tu cioè tu mi chiedi di andare a manetta con la pioggia niente si diverte come una bambina e anche l'età cerebrale credo sia quella faster faster se vado più veloce così torniamo indietro nel tempo te ne rendi conto guidi più piano di mio padre e lui ha 60 anni ma scusa ho avuto un incidente che devo fare correre a un certo punto si era entusiasmata un po' meno fa scendere sandra al suo appartamento cioè quindi voleva fare un giro in macchina veramente sono andato a prenderla per fare un giro in macchina alla velocità della luce che bella ragazza che ci siamo trovati veramente un fiore un tesoro rompi i coglioni madonna non potevamo andare al cinema tipo no dobbiamo mettere a repentaglio la vita di tutti e due anzi la tua visto che Wei Shen non muore facilmente eh urla urla stronza vuoi andare veloce ti faccio andare veloce questa è un'auto veloce un'auto sportiva quindi sgrizza anzi visto che non la lavo mai la faccio riempire di polvere è un'auto sporchiva tra 500 metri arriviamo a casa di questa stronza e io spero che sia felice del bellissimo giretto alla velocità della luce che le ho fatto fare che veramente sto terrorizzando tutta la città per farla divertire forse questo finale le andrà un po' in culo vediamo vediamo se è contenta il nostro Wei credo che questa notte dovrà lavorare di avambraccio perché mi sembra che quello è terrorizzato bene è andata male è andata male ah si è aumentata la reputazione per questa cosa che ci è successa ma in che posto viviamo va bene ragazzi io direi che ma vai che si terrorizzano sono una persona normale va bene ragazzi fatemi sapere se volete vedere altre avventure qui su sleeping dogs io veramente più torno a giocare a questo titolo più mi convinco che sia uno dei giochi più fighi mai usciti e noi ci vediamo al prossimo episodio di questo gioco o di un altro eh? che scelta grazie a tutti grazie a tutti